Allora, buongiorno, buongiorno. Oggi parliamo di un bel libro. Scendiamo la luce, va. È un po' meglio. Oh yes. Non ho la fotocamera super figa perché non ho tempo poi di montare il video, quindi niente. Il libro di cui volevo parlare era Moby Dick. Incredibile. Un video assurdo, non si invidio, un romanzo assurdo. Non ho mai letto un libro così bello, veramente incredibile. Non pensavo minimamente che fosse così. Diciamo che una mia grande colpa è quella di non aver letto nella mia vita i grandi classici. I libri, diciamo, di una volta, appunto, cioè scritti proprio nel passato. E questo, appunto, è uno di quelli. E mi ha colpito veramente perché all'interno c'è di tutto. Parla di spiritualità, di pesca. Perché ovviamente parla di pesca nel dettaglio. Ma c'ha veramente un'essenza assurda. E poi è comico. È comico perché praticamente Melville, che è l'autore, secondo me, ai tempi d'oggi poteva fare il comico e fare dei monologhi. Perché poi ogni capitolo, in realtà, letto da solo, è come se fosse un monologo. Perché è veramente esilarante. Spiega nel dettaglio un sacco di cose relative poi alla pesca, appunto, delle balene. Che io non sapevo minimamente come fosse fatta e che cosa, cioè perché la facevano. Cioè, in realtà, loro, i balenieri di una volta, andavano a catturare le balene. Perché praticamente all'interno della testa della balena c'è un componente, un olio, che si chiamano spermaceti, che praticamente veniva usato per le candele e per essere bruciato per le lanterne. Cioè, quindi loro uccidevano le balene esclusivamente per quest'olio, che diceva Melville, appunto, essere un olio incredibile. Perché aveva delle proprietà pazzesche sia nel tatto proprio che nell'odore che profumava di violette. E quest'olio, appunto, bruciava e non puzzava, assolutamente. E quindi, appunto, veniva utilizzato per questo, per fare le candele, per le lanterne. E scoprire, appunto, che uccidevano degli animali per, cioè, per l'olio, per delle lanterne, ma un po', diciamo, destabilizzato, nel senso, perché io pensavo che magari mangiassero la carne o roba del genere. In realtà nel libro dice che veniva, sì, mangiata la carne, ma in realtà non veniva servita, cioè non venivano, appunto, prese pezzi di carne e venduti. Al massimo c'erano i balenieri che assaggiavano questa carne addirittura cruda. E quindi non veniva, appunto, uccisa per cibo. Allora, il romanzo, praticamente, parla, appunto, di questa famosa balena bianca, Moby Dick, inseguita dal capitano Akab. Questo capitano arcigno che non ha, sembra, non abbia sentimenti, ma ha solo, appunto, la voglia di andare a uccidere Moby Dick, perché la prima volta che l'ha incontrata gli ha strappato una gamba, e quindi giura di ucciderla. La storia viene narrata da questo personaggio, che si chiama Ismaele, che in poche parole lui non è che si descrive tanto, in realtà descrive tutta la storia intorno a sé, e ci sono anche riferimenti alla scienza, alla religione, spiritualità, ci sono molti monologhi in cui ogni personaggio parla all'interno di sé stesso e fa i conti con il proprio destino, con la propria vita. Ed è meraviglioso, veramente, veramente, veramente bello. Piccola particolarità, all'interno del mio, del romanzo, parla di Giona, Giona, che bisse nella balena, e Giona è il nome del mio secondo figlio, mentre Ismaele è il nome di uno dei miei migliori amici. Quindi ho trovato anche queste piccole, queste piccole, diciamo, cose all'interno. E niente, è veramente una storia eccezionale, simboleggia, diciamo, simboleggia tante cose, cioè la balena bianca può far venire in mente migliaia di cose, la balena appunto ha questo enorme cetaceo incredibile che rappresenta appunto la forza della natura, la purezza, che però all'interno del romanzo stesso Melvi spiega che questo bianco, in realtà, appunto, che fa ricordare la purezza, le cose, diciamo, eteree, in realtà nel Moby Dick creavano terrore, un terrore che chiunque l'aveva incontrata appunto viveva questo terrore perché sembrava che appunto questa balena fosse veramente intelligente nel andare a spaccare, a rompere barche, lance e quant'altro per non farsi catturare rispetto alle altre balene che invece appunto lottavano nel momento in cui venivano ramponate ma lei proprio era diretta verso i suoi nemici appunto. Allora, la cosa incredibile è proprio la descrizione precisa di come praticamente cacciavano le balene, come le uccidevano e proprio tutti i passi precisi di come appunto le scuogliavano, le spellavano e le prendevano quest'olio praticamente veniva tagliata la testa al capodoglio e in poche parole uno che era il ramponiere, che il ramponiere era praticamente quello che lanciava il rampone alla balena, diciamo quello un po' più prestante, si immergeva dentro la testa dove c'era quest'olio e praticamente legato doveva tirare fuori col secchio quest'olio per poi metterlo nelle botti. Quindi c'è la difficoltà immensa, incredibile, di cacciare le balene e quindi appunto l'inseguimento, ramponare la balena, tirarla, tirarla sopra la barca, la nave e poi squartarla, quindi dividere tutti i pezzi per prendere quest'olio che stava all'interno della testa e quindi inserirsi nella testa e tirarla fuori con questi secchi. Una cosa incredibile. Leggiamo tre piccoli estratti appunto in cui uno c'è l'emozione di Melville che descrive l'inseguimento della prima balena dove parla appunto di questa cosa. Allora, era uno spettacolo pieno di viva meraviglia e di paura. Il mare onnipotente che si gonfiava in masse d'acqua, il ruggio crescente e vuoto che queste facevano rollando lungo gli otto capi di banda come bocce gigantesche in uno sterminato campo da gioco. La breve, sospesa agonia della barca mentre si rizzava per un attimo sul taglio delle onde più affilate che quasi parevano minacciare di tagliarle in due. L'improvviso sprofondare nelle valli e nei burroni d'acqua, i vivi colpi di sperone e pungolo per guadagnare la vetta dell'altura di fronte, la precipitosa scivolata da slitta giù per l'altro fianco. Tutto ciò e le grida dei capoccia e dei ramponieri e i rantoli dei rematori e la vista meravigliosa del Pequod e Burneo che scendeva sulle sue lance a vele spiegate come una chioccia selvatica sui pulcini strillanti. Tutto ciò era emozionante. Non la recluta inesperta che passa dal seno di sua moglie alla febbre della prima battaglia, né lo spettro del morto che incontra all'altro mondo il primo fantasma sconosciuto. Nessuno dei due può sentire emozioni più strane e più forti dell'uomo che si trova a vogare per la prima volta dentro la magica cerchia di spuma del capodoglio inseguito. Bello. Bellissimo. Praticamente la cosa comica è che questi pirati no scusa no pirati no non erano pirati questi balinieri avevano a capo appunto ognuno aveva il suo ruolo quindi c'era il capitano che in questo caso è Aqab il famosissimo capitano Aqab che aveva dei sottoposti quindi chi è che stava a capo delle barche delle imbarcazioni che scendevano per andare a catturare appunto i capodogli. avevano diciamo ogni barca il suo appunto capo con il ramponiere che era quello che appunto ramponava la balena e questi praticamente i capi di queste imbarcazioni sono cioè sono proprio comici perché praticamente ogni ogni cosa che dicono ha quella quell'humor inglese classico appunto ma sono molto rudi però nella loro rudezza sono anche sentimentali quindi ci sono un po' di appunto di cose da leggere che adesso vi leggerò. Questa è la prima calata in mare di una delle lance anzi delle lance che praticamente vanno a catturare la balena e il capo di questa lancia si chiama Stub e praticamente viene riportato i suoi incitamenti all'equipaggio che praticamente ha in questo caso visto per la prima volta dopo appunto l'avvistamento della balena e hanno messo le lance in acqua e sono usciti diciamo dalla nave delle persone che erano nascoste dentro la nave e che hanno lasciato tutti di stucco perché nessuno si era accorto di questa cosa e avendo diciamo a capo di quest'altra lancia un si chiama Fedallah il personaggio che è comunque uno con dei capelli tutti un po' strani tipo Rasta con carnagione scura insomma veniva visto un po' come appunto il diavolo che era uscito da questa nave e che scendeva nella lancia con loro a inseguire questa balena e quindi dovevano per forza di cosa arrivare prima di questo che poi era questo Fedallah stava nella lancia di Akab il capitano che se l'era portata e l'aveva nascosti a tutti quanti perché per poi catturare la famosa Moby Dick quindi Stab dice al suo equipaggio forza 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 belli cuoricini miei forza figli forza piccini miei sospirava dolce e carezzevole stabba la sua ciurma vedendo qualcuno ancora turbato ma perché non vi rompete i reni bimbi miei ma che cos'è che guardate quei giovanotti in barca e con questo cinque in più a darci una mano da dove vengono vengono più siamo meglio ce la passiamo forza allora fate forza che bene frega dello zolfo i diavoli sono gente simpatica dai dai così va bene quella è la palata da mille libre quella è la palata che tira tutto viva la tazza d'oro piena di spermaceti paladini miei tre viva ragazzi tutti tesoro piano piano non la prendete calda non la prendete troppo calda ma perché non spaccate i remi farà butti mordete un po' carogne sotto 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 ecco calmi calmi così così lungo e robusto dai corremo là voga vi strozzi il diavolo carogne morte di fame dormite a tutti piantatela di russare morte di sonno e sotto ai remi forza vi dico ne avete forza volete far forza dico ma sangue del ghiuzzo volete fare forza fate forza e spaccatevi qualcosa forza e vi schiattino gli occhi guardate e si strappò dalla cintola il coltello affilato ogni figlio di buona madre cacci fuori il coltello e forza con la lama tra i denti così così ora si che va meglio ora si che fa scintille mie lame d'ascia fatela correre fatela correre cucchiai d'argento fatela correre marpioni pazzo scatenato più avanti c'è un dialogo tra sempre stab che dopo aver catturato la balena si fa servire di un pezzo di carne della balena lì sulla barca direttamente che era un'usanza che in realtà non facevano tanti ma questo stab praticamente lo fa si fa cucinare questa bistecca che in realtà non era da cucinare ma solo da scottare perché per lui doveva mangiarla cruda praticamente e chiama il cuoco anzi in questo caso mentre sta mangiando ci sono gli squali sotto alla barca che stanno praticamente azzannando la balena che è attaccata alla barca appunto perché una volta catturata andava attaccata alla barca alla nave e questi pescecani mentre lui sta mangiando gli danno fastidio quindi chiama il cuoco che gli ha cucinato questa bistecca improvvisata e gli dice di andare a parlare agli squali cuoco cuoco ma dove diavolo è il vecchio caprone gridò finalmente allargando di più le gambe come a farsi una base più sicura per la cena e vibrando nello stesso tempo la forchetta nel piatto come se desse un colpo di lancia cuoco ehi cuoco naviga da questa parte cuoco il vecchio negro certo non molto contento di essere già stato costretto a saltare dalla sua tiepida branda a un'ora tanto impossibile arrivò arrancando dalla sua cambusa come molti negri aveva un po' rovinate le padelle dei ginocchi che non teneva così bene sgrassate come le altre sue padelle il vecchio caprone come lo chiamavano arrivò strascicando e zoppicando aiutandosi nel passo con le molle fatte rozzamente con cerchi di ferro raddrizzati avanzava a fatica il vecchio ebano e in obbedienza all'ordine venne a piantarsi dall'altro lato della credenza di stub poi unì le due mani sul suo bastone a due gambe e curvò ancora di più la sua ricurva schiena piegando nello stesso tempo la testa da un lato in modo da sfruttare il suo orecchio migliore cuoco disse stub portando rapido alla bocca un pezzo di carne piuttosto rosseggiante non credi che questa bistecca sia un po' troppo cotta l'hai battuta troppo cuoco è troppo tenera non ti dico sempre che per essere buona una bistecchia di balena deve essere duretta guarda quei pesci canelli fuori bordo non lo vedi che la preferiscono dura e al sangue che bordello che fanno va a diglielo cuoco digli che possono senz'altro servirsi civilmente e con moderazione ma debbono stare zitti per la miseria non riesco neanche a sentire la mia voce avanti cuoco vaglielo a dire qua prendi la lanterna e ne afferrò una dalla credenza muoviti fagli questa predica il vecchio caprone prese turvamente la lanterna che gli si porgeva e zoppicò per il ponte fino alla murata poi gettando luce sul mare in modo da avere un buon panorama del suo pubblico brandì solennemente le molle con l'altra mano e sporgendosi tutto dalla banda cominciò a rivolgersi agli squali biascicando mentre Stub gli scivolava dietro pian piano per sentire cosa diceva compagni animali mi viene ordinato di dirvi di smettere questo casino ci sentite? Mastro Stub dice che potete riempire le vostre pancie fetenti fino alla botola ma per dio bisogna finire questo casino qui intervenne Stub cuoco e accompagnò la parola con una botta di sorpresa sulla spalla cuoco possa restare accecato ma che bisogno hai di bestemmiare in quel modo quando predichi ma che modo è questo di convertire i peccatori cuoco ma chi io allora predica tu e si voltò incupito per andarsene ma no cuoco continua continua pure beh allora compagni animali amatissimi bravo approvo Stub con le buone prova con le buone e caprone continuò pesce cani siete e morti di fame per natura ma vi dico compagni che questa fame lupigna ma la volete smettere con quelle cose per dio non mi potete sentire canchero se continuate con tanti morsi e picchi cuoco gridò Stub prendendolo per il collo niente bestemmie parla del gentiluomo e la predica procedente la vostra fame lupigna fratelli non ve la rimprovero certo è la natura e la natura non si cambia ho un po' di freno a questa natura diabolica è questo che dico pesce cani siete non c'è dubbio ma se al pesce cane di dentro ci mettete una cavezza per dio allora siete angeli ma perché un angelo non è altro che un pesce cane ben controllato ora sentite qua fratelli un pochino di educazione quando vi servite di balena non strappate quel grasso di bocca al compagno dico ma ognuno di voi pesce cani ha uguale diritto a questa balena no? che anzi per dio nessuno non avrebbe diritto visto che la balena appartiene a qualcun altro lo so che qualcuno di voi ha una boccaccia così più grossa degli altri ma bocca grossa alle volte significa pancia piccola sicché la bocca grossa non è affatta per ingogliarsi ma per tagliare grassa a fette per i pesce cani più piccoli che non ce la fanno a cacciarsi sotto e servirsi in mezzo a questo bordello benone vecchio capro gridò Stab questo si chiama cristianesimo va avanti inutile andare avanti quei cani dannati continuano a pestarsi a fare cagnara Mastro Stab ma non sentono una parola inutile predicare a questi ghiottoni dannati diciamo finché non hanno riempito le pance e quelle pance sono sfondate e quando le riempiono neanche allora vi sentono perché si tuffano nel mare vanno subito a dormire sui coralli e non sentono più niente mai più niente per sempre sull'anima mia la penso quasi come te dagli la bella emizione allora caprone e io torno a cena caprone stese tutte e due le mani sulla marmaglia dei pesci alzò la voce stridola e gridò dannati fratelli ammazzatevi pure a vostro gradimento riempite le pancie schifose finché scoppiano e crepate bello bellissimo bellissimo andiamo avanti questa è praticamente la parte quella che diciamo dei spermaceti dove in poche parole Melville spiega mentre sta lavorando questo spermaceti che praticamente lo si lo si maneggia perché è formato anche da grumi ma sono così appunto morbidi che vanno comunque spremuti per per fare l'olio lo spermaceti appunto mentre sta facendo questa cosa quindi mentre sta spremendo descrive quello che prova e questo questo spermaceti praticamente è come se lo lo portasse in un'altra dimensione l'odore il tocco e andiamo a leggere mentre annusavo quell'aroma incontaminato che veramente e letteralmente è come il profumo delle violette a primavera vi giuro che per un tratto vissi come in una preteria moschiata dimenticai tutto del nostro terribile giuramento me ne lavai le mani e il cuore in quello sperma ineffabile e quasi cominciai a credere alla vecchia superstizione di Paracelso che quell'olio abbia una rara virtù di calmare il calore dell'ira bagnandomi in quel bagno mi sentivo divinamente libero da ogni desiderio di male da ogni petulanza o malizia di qualsiasi sorta spremi 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 per tutta la mattina spremetti quell'olio finché mi senti sciogliere quasi con esso spremetti quell'olio finché mi prese una sorta una strana sorta di insania e mi trovai senza volerlo spremere in esso le mani dei miei compagni scambiandole per i globuli gentili un così abbondante affettuoso amichevole e amoroso sentimento creava quell'occupazione che alla fine io stringevo di continuo le loro mani e le fissavo negli occhi con uno sguardo tenero quasi a dire oh miei diletti simili ma perché continuare a nutrire rancori sociali o a sentire il più lieve malumore o invidia su stringiamoci le mani tutti in giro anzi spremiamoci l'uno nell'altro spremiamoci universalmente nel latte stesso e nello spermaceti della bontà potessi spremere per sempre quello spermaceti perché ora che per molte ripetute esperienze mi sono reso conto che in ogni caso alla fine l'uomo deve abbassare o perlomeno trasferire la sua idea della felicità che si può raggiungere non collocandola in qualche zona dell'intelletto o della fantasia ma nella moglie nel cuore nel letto nella tavola nella sella nel focolare nel proprio paese ora che ho capito tutto questo sono pronto a spremere la tinozza in eterno nelle mie pensose visioni notturne ho visto lunghe file di angeli in paradiso ciascuno con le mani in una giara di spermaceti bello bello incredibile incredibile un libro eccezionale che ovviamente consiglio io ho un'edizione economicissima che ho preso dal supermercato così per caso che praticamente mi ha attirato e quindi niente Moby Dick un grande grande libro una piccola cosa ho scordato di dire dove Melville ha scritto la storia cioè dove nel senso come da dove ha preso questa storia è liberamente presa dalla storia dell'imbarcazione della barca Essex che praticamente era una barca che appunto sembra sia stata affondata affondata da una balena quindi Moby Dick e praticamente i naufraghi di questa barca di questa imbarcazione sono rimasti mesi sul mare alcuni sono andati su un'isola e sono rimasti lì altri hanno cercato appunto di andare a trovare aiuto ma non c'era nessuno non hanno trovato nessuno e praticamente a un certo punto per salvarsi hanno cominciato a mangiare i cadaveri dei propri compagni fino a che a un certo punto addirittura hanno dovuto tirare a sorte per uccidere uno e mangiarselo perché altrimenti sarebbero morti tutti questa è una storia sembra appunto vera in cui ci sono i diari dei sopravvissuti dell'epoca e dove appunto Melville ha preso spunto per la storia di Moby Dick quindi diciamo che la storia ovviamente non è reale e hanno fatto anche un film su questa storia con la regia di Ron Howard che dovrò vedere e quindi poi quando lo vedrò magari ne riparleremo